So che è passato esattamente un mese dalla pubblicazione del video di Ale della Giusta dove parla della presenza di uno streamer pedofilo su Twitch e ho visto anche che successivamente molti streamer hanno cominciato a parlare di questo argomento a reattare al video in sé per sé Blur ne ha parlato, il Cerbero ne ha parlato però non ho visto la reaction di nessuno di loro quindi quello che andrò a dire sarà 100% pensiero mio Ho deciso di parlarne adesso perché voi mi conoscete sono una persona molto suscettibile quando si parla di certi argomenti e quando esce fuori una notizia del genere io prendo, registro e ne parlo e anche perché dai è scontato che da un momento all'altro uscirà fuori la verità su chi sia questo streamer non prendiamoci in giro leggerò tutte le parti che mi sono preparato per rendere il video il più fluido possibile senza dimenticarmi ogni singolo dettaglio parto dicendo che Ale della Giusta non è stupido anzi lo vediamo anche da come si esprime nei video che è una persona molto intelligente e che sa il fatto suo però stavolta ha cappato, lo possiamo dire? ovviamente queste parole non vanno a giustificare le azioni imperdonabili dello streamer pedofilo però se un giorno un hacker mi desse delle informazioni su uno che sta facendo cose che vanno al limite del penale non ci penserei due volte a chiamare la polizia di stato per indagare sul presunto streamer famoso visto che l'hacker gli ha fornito sia nome che cognome intanto io voglio risottolineare questa cosa dello streamer famoso visto che è abbastanza particolare e curioso come dettaglio se c'è una cosa che ho ben notato nei miei ultimi tre anni di Twitch è che l'home page avverte della presenza in live solo di streamer con numeri importanti quello che cerco di dire è che è quasi inutile girarci intorno perché questo vuol dire che pure lo spettatore medio che apre Twitch per la prima volta o comunque che lo apre ogni morte di papa potrebbe avere la risposta davanti a sé il che è abbastanza disturbante se ci pensate e se in tutto questo voi pensate che sia il pedofilo in questione colui che ci sta rimettendo di più in parte è lui non lo nego, l'ho già detto pochi secondi fa però anche Ale della Giusta si è preso e sta continuando a prendersi una buona parte della torta mi spiego meglio, Ale della Giusta mantenendo segreta la verità non fa altro che danneggiare la psicologia del pubblico perché se prima della pubblicazione del suo video la gente passava su Twitch che ne so per scappare dai pensieri pesanti ora si sentirà come quasi preso in soggezione non so come spiegarlo perché non potrà fare a meno di pensare che da un momento all'altro il suo streamer preferito potrà contattarlo in privato con un account anonimo per chiedere del materiale e questo è il danno poi si arriva alla beffa che però è una cosa che va più sul personale in cui lo streamer ipoteticamente innocente ha furia di venire soppresso dalla miriade di persone che sviluppano teorie della serie ah ma lui ha visto che sullo schermo è apparso il numero 09 lui ha fatto la battuta ah le 09 quelle che piacciono a noi adulti e non vi fidate della sua scusa finale del tipo ah si sghe fratello siamo nel chillong perché lui non fa altro che nascondere la sua vera identità vi prego non fate queste teorie ma tornando a noi a furia di venire soppresso finisce per non lavorare e o per non vivere più con la stessa voglia e con la stessa costanza di prima inoltre più il pubblico rimarcherà sulle loro folli teorie più lo streamer preso in causa comincerà ad autodubbitarsi arrivando alla conclusione dicendo che ah visto che una buona fetta di pubblico pensa questa cosa su di me allora non sono proprio la brava persona che credevo di essere ed è una delle cose più brutte di questo mondo far abbassare l'autostima di una persona soprattutto in un ambiente dove lui non c'entra niente e voi cosa ne pensate di questo fatto? mi scuso ancora una volta per essere arrivato così tardi per parlare di questo argomento però che ci posso fare? come alla fine di ogni video vi ricordo di lasciare like un commento un'iscrizione e di condividere non soltanto questo video ma anche il mio canale con i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima ciao